È un progetto che unisce l'arte con la cultura e con l'ambiente, in questo senso che la cattedrale vegetale o cattedrale verde è una costruzione, praticamente è un'enorme gabbia di legno che definisce un qualche cosa che assomiglia molto a una cattedrale, dentro questa enorme gabbia di legno saranno piantate queste essenze vegetali, queste piante che con una manutenzione continua, seguiranno l'andamento di queste gabbie che noi abbiamo precostruito e di fatto andranno a definire una vera e propria cattedrale. Dove sarà? Sarà sul Monte Arera e cercherà di recuperare l'arte di chi gestì i roccoli, che è un'arte che è nata qui nella Bergamasca e che si sta perdendo, quindi l'arte di condizionare le piante in una vera e propria architettura vegetale, quindi è un'architettura vegetale, accanto alla cattedrale risistemeremo in maniera definitiva il sentiero dei fiori e delle farfalle, perché lo chiameremo così. A questo punto riteniamo che il Monte Arera possa essere abbastanza qualificato per la fruizione, lo consegneremo ai comuni e chi andrà avanti a gestirlo. Ma poi chi gestirà questa struttura? L'idea è fare un piccolo gruppo di lavoro tra parco, comune, tra l'altro qui presso la Curia è stata fondata questo centro di educazione ecologica, il centro di etica ambientale e secondo me potrebbe, dall'unione di questi componenti, potrebbe emergere un gruppo di lavoro che potrà gestire al meglio questa iniziativa. È una cattedrale, magari potrebbe esserci anche il Vescovo all'inaugurazione. Stiamo cercando di convincere il Vescovo a partecipare all'inaugurazione che grosso modo potrebbe essere ai primi di settembre. Quindi ormai ci sono già dei lavori? I lavori sono iniziati con i tre consorzi forestali, perché abbiamo chiamato raccolti i tre consorzi forestali e quindi stanno lavorando proprio in questi giorni.